Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi volevo parlare di un altro aspetto che, leggendo la storia segreta dei Mongoli, mi ha colpito molto. Questa volta è un aspetto legato alla personalità di Gengis Khan. Nel frattempo, scusatemi se sentirete dei rumori, ma mi hanno detto che ho dei problemi con le mucose e una cosa di questo tipo e quindi ho aperto la finestra per areare un po'. Scusate il disturbo, però continuiamo subito. Dicevo che l'aspetto che mi ha colpito molto è il senso dell'onore profondissimo che si respira per tutto il libro e in particolare il senso dell'onore associato a Gengis Khan, che è qualcosa che a molti magari sembrerebbe addirittura alieno, sia per i luoghi dove si svolge che, per essere chiari, la Mongolia non è un paese che è grande tipo come l'Europa, però dove ci sarà, non so, un centesimo degli abitanti, una cosa di questo tipo. Magari esagero, però non penso più di tanto. E quindi, diciamo, uno potrebbe anche dire che addirittura non ci dovrebbe essere un senso dell'onore, perché d'altronde se tu vedi una persona una volta e poi magari non la rivedi più o la rivedrai fra svariati anni, svariati mesi, proprio perché le distanze sono enormi e tendenzialmente comunque la gente si sposta, però fino a un certo punto, anzi no, questa è una cavolata, si sposta moltissimo e proprio per questo non è detto che la rincontri mai, beh, avrebbe anche ragione, cioè effettivamente mi rendo conto che sia qualcosa di strano, qualcosa di alieno. Eppure, in questo libro si vedo appunto come ciò non solo non era alieno per niente, ma era una componente importantissima di tutta la storia di Gengis Khan. Ve lo dico fin da subito perché questo, diciamo, sarà il nocciolo e poi da questo vorrei iniziare a fare una discussione, magari anche con voi, se volete commentare, se volete scrivere, eccetera, sono molto interessato. Perché Gengis Khan vede in questa maniera, di fatto, il concetto di onore, cioè tu devi sempre portare rispetto e devi sempre onorare il tuo Khan, il tuo superiore, in ogni caso, a prescindere dalle azioni che farei dopo. Ma ogni singolo momento, prima di fare quelle azioni, devi onorare il tuo Khan e tutto deve essere ufficiale. Vi faccio un esempio che in questo libro si vede svariate volte e che è messo scientificamente lì tante volte, perché, ricordiamo, Storie segrete dei mongoli è un testo epico, addirittura, che fu scritto proprio per celebrare Gengis Khan, celebrare la sua epopea, seppur riservandola solo ai mongoli, proprio perché si vergognavano, ma di questo parlerò di più venerdì. Gengis Khan di solito faceva così. Se arrivava qualcuno a schierarsi dalla sua parte, la prima cosa che chiedeva era che fine ha fatto il tuo Khan? E la risposta non era per lo più quella che... Cioè, la risposta che si voleva sentire Gengis Khan per lo più non era quella che, quantomeno un viaggiatore dei nostri giorni, un viaggiatore magari che veniva dall'Europa, si aspetterebbe mai di sentire, perché se tu, per fare un esempio, avevi ucciso il Khan, il tuo precedente Khan, e quindi il rivale di Gengis Khan, o glielo avevi portato, o lo avevi fatto morire di sete, di fame, o comunque, diciamo, lo avevi portato alla morte, alla sconfitta, allora Gengis Khan ti puniva addirittura, cioè ti uccideva all'istante, e non c'era possibilità da questo punto di vista. Se tu avevi tradito il suo Khan precedente, tu dovevi morire, perché era indice del fatto che avresti potuto tradire, fra poco, anche Gengis Khan, e quindi persona di cui non ci si può fidare. Tra l'altro questa cosa è molto particolare, perché io la prima volta che la senti, la senti legata in realtà all'imperatore Qin, che fu colui che fece costruire la muraglia cinese, per essere chiari. Anche lui aveva pagato un traditore per vendergli la testa del suo precedente capo, e poi l'aveva fatto uccidere, proprio perché non poteva fidarsi dei traditori, che è una cosa che a noi sembra magari quasi agghiacciante, però è molto pratica e in realtà corretta, nel senso che effettivamente, soprattutto in questi casi, colui che ti tradisce tendenzialmente, cioè colui che tradisce un altro, tendenzialmente lo può fare anche con te, perché dipende. Ma, e questo è molto importante, non è che tutti quelli che si veniva a offrire a Gengis Khan, lui uccideva, assolutamente no. Ci sono moltissimi casi nei quali questi, proprio sapendo del trattamento che riservava Gengis Khan ai traditori, lasciavano prima il loro Khan nella migliore delle condizioni, e a quel punto andavano da Gengis Khan. In questi casi, in tutti questi casi, questi venivano accolti addirittura a braccia aperte, i venivano dati dei ruoli importanti addirittura, proprio perché, seppur erano passati dalla parte, fra virgolette, del nemico, seppur erano passati da parte di Gengis Khan, e questo a Gengis Khan non interessava per essere chiari i motivi, poteva essere per paura, poteva essere per, appunto, riconoscenza della superiorità, onore, tutto qualsiasi cosa, questo non interessava. Ma, ma, guai se arrivavi con la testa del tuo Khan, perché ti sarebbe stata tagliata la testa, di conseguenza. E io, personalmente, ritengo che questo aspetto, seppur nella sua brutalità assoluta, perché Gengis Khan è tutta era, ma non era un principe, infatti, la sua storia la volle nascondere, sotto alcuni aspetti, questo è qualcosa che addirittura cavallerisco, dal mio punto di vista, ed è veramente uno degli aspetti che più mi ha colpito in maniera positiva. E, naturalmente, ti viene messo tante volte proprio per celebrarlo, però è giusto, nel senso che, moltissime volte, dal mio punto di vista, ci si affida a dei traditori, nella speranza che, o dalla tua parte, non lo tradiscano, invece, speranza abbastanza vana, o che, non so, addirittura, tu li sappia controllare, eccetera. Se tu vuoi costruire un'elite, come quella che costrui effettivamente Gengis Khan, naturalmente non è che devi uccidere tutti i traditori, eccetera, questo è forse un po' esagerato, però sicuramente non devi fidarti di chi ti vende la fiducia dopo che l'ha venduta un altro, e potrebbe farlo un altro ancora. È un cattivo segnale, e sicuramente farai crescere la tua impresa, la tua storia, tutto qualsiasi cosa, tanto sono tutte storie, in realtà, male, avvelenata quasi, e più avanti ci potrebbero essere dei problemi. Io, fortunatamente, da questo punto di vista, posso dire proprio tranquillamente che non parlo per esperienza personale, perché ne ho avute altri tipi di esperienze, però non sono state legate in nessuna maniera a cose di questo tipo, però è molto facile immaginarselo nella realtà. Detto questo, io vi saluto, domani parlerò di un altro aspetto molto particolare di Gengis Khan, che a molti sembrerà magari quasi banale, ma vi assicuro che, visto poi, concretamente, mentre uno appunto legge questo libro, esplorando appunto appieno questo mondo, ci si rende conto che un conto è dirlo, e un conto è viverlo, fra virgolette, ovvero il concetto di stato mobile, che è qualcosa che, per qualsiasi popolazione mondiale, salvo i Tuare, gli Zingari e alcuni altri, è un concetto che è assurdo, ma che non solo è fortissimamente presente nei mongoli, che è ovvio, non esiste uno stato mongolo vero e proprio, salvo con Gengis Khan, salvo da Gengis Khan, scusate, però è un concetto che comunque è esistito anche da altre parti, basti pensare al popolo ebraico, che per anni fu un popolo mobile. Io comunque vi saluto, appunto ci trovate su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, chi più ne ha più ne metta, e vi ricordo che dal primo marzo parte il Patreon. Io onestamente non sono in alto mare, per carità, però mancherò ancora due o tre cosine, il tempo di fare i contenuti di questa settimana, e preparo tutto in maniera tale da farvi avere fantastiche sorprese, e le migliori. E vi aggiornerò anche per un evento che voglio fare in statale, con un'associazione, dovrebbe essere molto bello, per la festa della donna. Io ripeto, vi saluto, alla prossima, e basta dai.